Non autosufficienza Incontriamo a Bologna, al forum della non autosufficienza, Gian Mario Gazzi, Presidente del CNOAS, Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti e Sociali. Ecco, quando si parla di non autosufficienza, questa è una figura importante e al centro anche di un dibattito? È un momento storico per la riforma della non autosufficienza, del PNRR e altri interventi sul sistema di welfare locale che vedono la figura dell'assistente sociale centrale per garantire il diritto alla continuità delle cure, per garantire anche interventi più personalizzati di quanto fatto sinora. Certamente è una sfida importante che richiederà ulteriori investimenti sulle competenze dei professionisti, sull'università per fare delle ricerche anche sugli esiti di questi interventi, ma soprattutto mettiamo in campo anche una preoccupazione rispetto alla tenuta dei servizi. Bisogna investire sull'assistente sociale come figura professionale ma anche su tutti gli altri professionisti e operatori per continuare a reggere la domanda che, come ci dice la demografia, sarà sempre in aumento. Non è una sfida semplice ma come professionisti ci stiamo provando. Grazie a tutti.